Quante volte ti è capitato di mangiare qualcosa che ti ha causato stitichezza? Per non parlare del fatto che, in alcune persone, la stitichezza è sempre accompagnata da un eccesso di peso sulla bilancia, non è così? Sul nostro canale abbiamo pubblicato molti video su come puoi curarla a casa in modo naturale. La ricetta che ti mostreremo oggi però sicuramente non la conosci. Hai mai sentito parlare del succo di papaya, avena e cannella? Questo succo ti aiuterà a regolare l'intestino e ti consentirà di perdere più facilmente peso. Incredibile, vero? Il fatto è che, con il ritmo frenetico di ogni giorno, non riusciamo a rispettare la dieta e finiamo per rivolgerci alle app di Food Delivery per semplificarci la vita. Tuttavia, per godere di una buona salute e di una buona qualità di vita, è necessario dedicare un po' di tempo alla preparazione dei cibi. Oltre a curare la tua alimentazione, ingerire i giusti nutrienti ti aiuterà anche a eliminare le tossine accumulate nel tuo corpo. Queste ultime sono responsabili delle malattie e dell'obesità. Quindi, per aiutarti in questa missione, scopri subito la ricetta del succo di papaya, avena e cannella. 1-4 tazza di papaya, 1-2 tazza di avena, 1-2 tazza di latte di mandorla o acqua, 1-4 di cucchiaio di cannella. Prepararla è facilissimo. Aggiungi tutti gli ingredienti in un frullatore e mescola. Se il succo non è abbastanza dolce per i tuoi gusti, aggiungi un cucchiaino di miele. Adesso non ti resta che berlo ogni mattina, sempre a stomaco vuoto. Vuoi sapere perché funziona? La papaya aiuta a contrastare la stitichezza perché contiene enzimi che aiutano la digestione dei cibi, normalizzando il transito intestinale. È ricca di fibre e quindi aiuta a perdere peso, regola l'intestino e riduce il colesterolo. La cannella, oltre ad avere un ottimo profumo, esercita un'azione antiossidante, stimola le difese dell'organismo e svolge un'azione antispasmodica, probiotica e anestetica. Questo mix ti aiuterà a depurare l'intestino, a eliminare la stitichezza e le tossine, creando un potente detox nel tuo corpo che ti aiuterà sicuramente a perdere qualche etto sulla bilancia.